Anticipazioni tempesta d'amore, mercoledì 27 maggio 2020. Nadia chiarisce a Tim che sta facendo sul serio. Non vuole essere una semplice avventura per lui. La donna così riesce a manipolarlo, suscitando in lui forti sensi di colpa. Il ragazzo alla fine confuso le chiede di restare al Fusenhoff. Quando Franzi scopre che è arrivata l'ex del suo amato non la prende molto bene. Christophe si rende conto che la cura di Annabelle è ufficialmente terminata. Alertato cerca di rintracciare il nuovo supervisore della giovane perché vuole impedirne a tutti i costi il rilascio. Ma non sa che ormai troppo tardi. Michael ammette la verità di fronte a sua moglie. Sì, è diventato dipendente dai farmaci che assume. E promette di disintossicarsi. Natasha decide di aiutarlo con le sue conoscenze erboristiche. Il dottore però è diventato ormai troppo vulnerabile. Jessica è felice che Paul stia pensando di rifarsi una vita a Monaco. Harry e Lindelberg poi smascherano Labron Host e l'affrontano duramente.